La coerenza non è da tutti ed è molto difficile essere coerenti, anche perché magari la tua idea è controcorrente e per essere coerente dovresti cercare di non seguire quello che dicono gli altri per essere coerente con te stesso, ma molte volte per non sembrare una persona diversa o per paura di non essere accettati, secondo me si rischia di non dire la verità o quello che si pensa realmente. Io penso che molte volte è più importante seguire quello che si crede davvero, piuttosto che seguire la scelta più semplice, perché per quanto mi riguarda sarebbe troppo semplice. Sicuramente è un invito a riflettere per capire meglio anche perché Socrate ha preso la decisione di sacrificare la sua vita senza scegliere un'altra pena, perché l'ha voluto fare, quando avrebbe potuto benissimo scegliere di andare in esilio, di vivere senza continuare a cercare la verità e il perché delle cose che si fanno. Devo dire che mi è piaciuto molto anche perché mi ha aiutato molto nel capire meglio quello che sto studiando. Basta, insomma.